Il Paradiso delle Signore, puntata 2104, Mente a Flora, Alfredo lascia Irene. Le anticipazioni della puntata Il Paradiso delle Signore di venerdì 21 aprile su Rai 1 sono ricche di novità e decisioni inaspettate. Nel prossimo episodio vedremo Umberto mentire a Flora, che inizierà a pensare di essere stata sostituita da Adelaide. Vista la preoccupazione del commendatore per l'assenza della contessa. Irene ha mentito ad Alfredo per non incontrare la sua famiglia, ferendolo nel profondo. Perico prende così una decisione inaspettata. Infine, Matilde e Tancredi hanno un riavvicinamento dopo aver ricevuto una bella notizia. Nella puntata del 21 aprile della soap opera Il Paradiso delle Signore, ci sarò ancora molta apprezzione per la sparizione di Adelaide, che ha mentito sulla sua reale motivazione che l'ha spinta lontano da Milano. Solo Italo, il fedele maggiordomo, sa la verità. Marcello è in ansia, come ha detto più volte a Ludovica. Lo stesso vale per Umberto. Deciso a rintracciare la contessa. Guarnieri prende la decisione di partire per ritrovare Adelaide. Ma commette un errore che potrebbe costargli molto caro, non dice nulla a Flora, raccontandole una bugia. Nel frattempo, Vito ribadisce a Maria la sua intenzione di partire per l'Australia ma viene spiazzato, lei ha appena accettato la proposta di Vittorio di diventare la nuova stilista del grande magazzino. Irene è molto sicura di sé e non sa che sta giocando con il fuoco. Alfredo sembra innamorato di lei. Ma davvero accetterà tutte le sue condizioni e troppi paletti nella loro relazione? La bella Cipriani ha mentito, avvalendosi di una banale scusa per non essere presente al ritrovo dei parenti del suo fidanzato. Quando Pericolo scopre, fa una scelta inaspettata che getta Irene nello sconforto. Come svelano le anticipazioni del paradiso delle signore Alfredo lascia Irene. Marco, intanto, continua a chiedere informazioni a Gemma sulla reale paternità del bambino che porta in grembo, ma riceve solo risposte negative. Continuando con le anticipazioni il paradiso delle signore di venerdì 21 aprile. Matilde e Tancredi hanno un riavvicinamento importante, dopo che i medici comunicano che è possibile un recupero della mobilità della gamba grazie a un delicato intervento. Nonostante la felicità e il momento di complicità con il marito, Matilde continua a indagare sulle reali cause che hanno innescato l'incendio al mobilificio Frigerio.